Voi siete pronti? Insieme a me, no? Le portiamo tutte le mani a tempo? Insieme? Oh! Oh! Come è cominciata io non saprei La storia infinita con te Che sei diventata una mia lei Di tutta una vita per me Ci vuole passione con te È un briciolo di pazzia Ci vuole pensiero perciò Lavoro di fantasy Ricordi la volta che ti cantai Qui subito un brivido, sì Ti dico una cosa se non la sai Per me vale ancora così Ci vuole passione con te Non deve mancare mai Ci vuole mestiere perché Lavoro di voce lo sai Cantare d'amore non basta mai Non ce ne ne ha già più Non ce ne ha più Per dirtelo ancora Per dirti di che Non c'è scritto Più per 35 Meno 365 giorni Ma cosa vorrà dire? Qua Meno 365 giorni 35 giorni esattamente buoni ragazzi già difficile allora esattamente 6 anni fa come oggi ti ho fatto la proposta ufficiale di stare insieme 6 anni dopo ti faccio un'altra domanda mi vuoi sposare? fare l'amore non basta mai ne servirà di più per dirtelo ancora per dirti che più bella cosa non c'è più bella cosa di te è unica come sei immensa quando vuoi dimmelo tu esattamente fra un anno il 14 febbraio del 2018 saremo qui a sposarci grazie mille grazie a tutti grazie a missione evento però aspetta vieni qua perché dovete fare il taglio della torta il taglio se tutto quanto pronto danni il microfono prendi la paletta attenzione e tantissimi tantissimi auguri 365 giorni e poi il sì più importante della vostra vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti